chat antisemita e contatti con criminali portavoce si mette in pensione chat antisemita e contatti con criminali il ritiro di un portavoce chat antisemita e contatti con criminali il ritiro di un portavoce paolo signorelli il portavoce del politico italiano francesco lolobrigida si è sospeso dopo le rivelazioni su affermazioni antisemite e legami con ambienti criminali questa sorprendente misura è seguita alla pubblicazione di una serie di screenshot e documenti che hanno fornito approfondimenti sulle chat private e le interazioni di signorelli le rivelazioni hanno suscitato ampi sconcerto e critiche feroci nel pubblico e nei media il ruolo di signorelli e la reazione politica nella politica italiana paolo signorelli è una figura ben nota il portavoce è stato coinvolto in numerose campagne politiche e ha dato un contributo significativo alla comunicazione pubblica di francesco lolobrigida a causa del suo ruolo centrale nella comunicazione del partito il suo status non può essere sottovalutato molti commentatori politici e analisti sottolineano che le dichiarazioni antisemite e i legami criminali potrebbero influenzare direttamente anche lolobrigida sorge quindi la domanda su quanto lolobrigida fosse informato sulle azioni e sulle opinioni del suo portavoce e se queste fossero forse tollerate alcuni esperti sostengono che questo scandalo potrebbe essere un campanello d'allarme per l'intero panorama politico italiano la necessità di verificare gli standard etici e garantire che le persone in posizioni chiave rispondono ai più alti requisiti morali raramente è stata così chiaramente in agenda anita fax sabato 8 giugno 24